Buongiorno a tutti, oggi presento in collaborazione col professor Rossi un passo molto interessante di Platone dedicato al ruolo della donna nella società giusta. Siamo nel quinto libro della Repubblica e lo affronteremo a due voci, come anche in altri video abbiamo proposto, strutturando la presentazione in questo modo. In un primo momento il professor Rossi farà una introduzione e più precisamente una contestualizzazione del passo, poi io darò la traduzione, quindi mi dedicherò in particolar modo agli aspetti esegetici e traduttivi, infine il professor Rossi si concentrerà, si focalizzerà su alcuni punti molto importanti del passo che stiamo per presentare. Do subito la voce al professor Rossi chiedendogli di collocare il brano che appunto andiamo a tradurre dedicato al ruolo della donna nella società giusta, contestualizzandolo all'interno della Repubblica Platonica. Bene, grazie. Come è stato appena ricordato il passo è collocato nel quinto libro della Repubblica. Voglio innanzitutto ricordare che la Repubblica è un dialogo composto da dieci libri, quindi siamo intorno alla metà dell'opera. Platone dedica questo libro che ha provocato numerose interpretazioni discutendo alcune questioni che poi faranno da introduzione ai libri successivi, soprattutto il sesto, il settimo e l'ottavo dedicato a questioni più specificamente filosofiche. Perché dico più specificamente filosofiche? Perché i primi quattro libri, soprattutto il secondo, il terzo e il quarto, sono dedicati a problematiche di carattere squisitamente politico, politico educativo e poi cercheremo di vedere anche perché. Ho detto secondo, terzo e quarto libro perché per quello che riguarda il primo libro ci sono state numerose interpretazioni, anche molto diverse, talvolta addirittura contrastanti. Alcuni dicono addirittura che si tratta di un libro a parte che Platone avrebbe rimaneggiato e riscritto fino agli ultimi giorni della sua vita. Quindi il dialogo propriamente comincia con il secondo libro. La questione è quella della giustizia, più specificamente è la questione di che cosa è una società giusta, o meglio come va pensata una società perché si possa definire una società giusta. E a questa domanda Platone risponde appunto attraverso il secondo, il terzo e il quarto libro. Aggiungo un'annotazione, nel primo libro la questione era stata posta sul piano individuale con interlocutori diversi dagli altri libri, a parte Socrate che è il protagonista principale del dialogo come nella stragrande maggioranza dei dialoghi platonici. Gli altri due interlocutori invece sono Adimanto e Glaucone. Adimanto e Glaucone sono i fratelli di Platone e qui si apre uno scenario esegetico enorme sul quale sono intervenuti gli studiosi nel corso del tempo, perché voglio ricordare che Platone non è stato soltanto un grande, un grandissimo filosofo, sicuramente uno dei 4-5 che hanno più profondamente segnato la storia della filosofia, ma è stato anche un grande scrittore per cui la scelta dei personaggi così come degli ambienti e delle situazioni non è mai casuale. Quindi teniamo presente questo aspetto di Socrate protagonista del dialogo interloquisce dialoga con Adimanto e Glaucone a turno sul tema della giustizia. Bene, chiedo ancora al professore quali sono le argomentazioni sviluppate da Platone per giustificare il fatto che anche le donne possono svolgere gli stessi compiti degli uomini? e quindi il quinto libro inizia con un intervento improvviso di Adimanto. Sembrava che i precedenti libri avessero delineato a sufficienza la struttura della società giusta, della Callipolis per dirlo in termini più tecnici, cioè della città bella. E interviene ricordando a Socrate che aveva accennato al fatto della comunanza di donne e figli e quindi sfida Socrate ad affrontare questi argomenti. E innanzitutto l'argomento delle donne, cioè bisogna affidare alle donne gli stessi compiti degli uomini, così come si devono insegnare loro le stesse forme di sapere, di cui parleremo la prossima volta, che vengono insegnate ai guerrieri, cioè a coloro che fanno parte dello strato sociale o della classe, diciamo così in termini moderni, dei guerrieri. Gli altri due classi, come molti di voi saprete, sono quella dei produttori da un lato ai quali non c'è bisogno di insegnare nulla, cioè non hanno bisogno di educazione e l'altra classe, quella superiore, i governanti che devono essere scelti tra i migliori tra i guerrieri. Ecco, a questo punto il problema è anche le donne possono diventare guerriere e governanti? Ecco, la risposta di Platone è sì, ma essendo un filosofo deve argomentare. E in un primo momento fa l'esempio dei cani da guardia e dice come i cani da guardia o da caccia vanno, svolgono determinati compiti, indipendentemente dal fatto che siano maschi e femmine, la stessa cosa può riguardare anche le donne, le femmine per quello che riguarda gli umani, diciamo così. Ora, Platone si rende conto, attraverso Socrate naturalmente, si rende conto che in questo modo trasgredisce il costume tradizionale. E si pone la domanda, non sarà ridicolo quello che noi stiamo proponendo, le donne che diventano guerrieri e addirittura governanti. Poi parla della necessità che anche le donne, come gli uomini, si esercitino nude nelle palestre e non solo le giovani. Perché dice questo? Perché l'educazione dei guerrieri, come approfondiremo meglio in seguito, si basa sulla musica, intesa come musica e poesia, e sulla ginnastica. E fa un'osservazione dicendo che non è affatto ridicolo, perché oggi non appare ridicolo che gli uomini si esercitano nudi nelle palestre, mentre invece un tempo lo era. Insomma è come se oggi uno si sorprendesse se una donna fumasse o la ritenesse una poco di buono, come per esempio era l'opinione di mia mamma. Oggi nessuno direbbe che una donna che fuma è una poco di buono, come mi insegna la mia collega professoressa De Luca, è una stupida come uno stupido l'uomo che fuma. Ma questo è un altro discorso. E a questo punto c'è la domanda, anzi due domande. È possibile, è desiderabile tutto questo? Socrate comincia affrontando la questione della possibilità, perché se è possibile probabilmente è anche desiderabile. È inutile che desideriamo qualcosa che sia impossibile, no? E già qui c'è un'argomentazione filosofica nell'ordine in cui vengono poste le domande e poi affrontate. Insomma, è possibile che la natura femminile sia in grado di condividere tutti i compiti, visto che per natura la donna differisce dall'uomo? Intanto questa domanda ne presuppone un'altra, anzi ne implica un'altra. Che cosa significa questa differenza? E Platone dice, se noi rimaniamo sul piano meramente biologico, traduco così, la donna partorisce e dice il maschio monta. Ma questa è una questione meramente biologica. Qui il problema è un altro. Qui per natura vuol dire se la donna è predisposta per natura svolgere gli stessi compiti, cioè si ha le stesse capacità degli uomini. E la conclusione a cui giunge Platone è evidente e dice così come ci sono differenze all'interno di queste nature, lo dobbiamo pensare sia per gli uomini che per le donne. Cioè ci sono donne predisposte a fare le contadine, quindi appartenere alla classe dei produttori, ci sono donne invece che sono portate per la difesa e anche per la guerra, così come ci sono donne che sono portate per il governo. E la stessa cosa vale per gli uomini ovviamente, anzi vale per gli uomini così come vale per le donne. Mi viene in mente anche un esempio, così come ci sono gli uomini calvi e gli uomini invece che hanno i capelli. C'è questa differenza, ma non è che i calvi sono adatti a governare o a non governare e quelli che hanno i capelli invece sì. L'osservazione di Platone, Socrate è la seguente. Vi voglio leggere un breve testo in cui Socrate e Platone evidenzia questo aspetto. Non vi è dunque, amico mio, si rivolge a Dimanto, nell'ambito della gestione della città alcuna occupazione che sia propria della donna perché è una donna, né dell'uomo perché è un uomo. Ma poiché le doti naturali sono parimenti disseminate in entrambe queste forme di vita, quello che dicevo poc'anzi appunto. Secondo natura, catafusin, la donna partecipa a tutte le occupazioni e a tutte l'uomo, ma in tutte la donna è più debole dell'uomo. C'è il riconoscimento della debolezza della donna rispetto all'uomo, ma non della incapacità. Insomma la differenza tutt'al più è quantitativa, non qualitativa se vogliamo esprimerci in questi termini. E poi Platone arriva direttamente al testo che la professoressa leggerà, tradurrà e commenterà. Bene, grazie professore per questa illuminante introduzione al passo che adesso io mi accingo a leggere e poi a tradurre. Ci diamo appuntamento quindi dopo la traduzione per chiederle ancora delle spiegazioni su alcuni punti essenziali di questo rivoluzionario passo. Posso chiamarlo rivoluzionario? Posso definirlo rivoluzionario? Certamente, considerata la situazione della donna nella Grecia dell'epoca, soprattutto di Atene, si tratta evidentemente di un passo rivoluzionario, così come era rivoluzionario Epicuro nel volere, nell'accettare nella propria scuola, nel proprio giardino, le donne e addirittura gli schiavi. Benissimo, allora adesso lo ascoltiamo dalla viva la voce di Platone. Leggiamo insieme e traduciamo. Allora, e fiusis la natura. Ara, dunque, cae gyuneicos e cae andros, sia della donna, sia dell'uomo, autè, sottinteso estì, è la stessa. Quindi vi è la medesima natura dell'uomo e della donna. Forse noi in italiano preferiamo dire vi è dunque una stessa natura nella donna e nell'uomo, quindi togliamo l'articolo determinativo, lo trasformiamo in indeterminativo e invece di usare il genitivo di specificazione, usiamo uno stato e luogo figurato, quindi vi è dunque una stessa natura nella donna e nell'uomo. Eis fiulachen, eis più accusativo a valore di complemento di fine, quindi per la difesa, poleos della città. Plen ed ecco l'eccezione, eccetto, osa è un pronome relativo, accusativo neutro plurale, che funge da accusativo di relazione. Dunque, eccetto per gli aspetti in cui è estin a senestera, cioè è più debole, quindi la natura sicuramente è della donna, quindi la natura della donna è più debole ed è l'altra, l'altra natura, quindi quella degli uomini è più forte. Quindi ci sono inevitabilmente degli aspetti in cui la natura della donna è più debole, la natura dell'uomo è più forte. Riprendo tutta la frase, vi è dunque una stessa natura nella donna e nell'uomo per la difesa della città, eccetto per gli aspetti in cui una è più debole, l'altra è più forte. fine, così pare, sembra, letteralmente vuol dire sembra. Ricordiamo che fine o mai al medio vuol dire sembrare, quindi sembra nel senso proprio dell'italiano così pare, così sembra. «Cai giunaikes ara ai toiautei, tois toiutois andrasin, ec lec teai sion oicente, cae sion filattein, e pei per eisin i canai, cae sion geneis autoist enfiusin». «Cai ara, e dunque, giunaikes ai toiautei, cioè si fatte donne, quindi donne di tale natura, ec lec teai, sottietteso eisin, sono da scegliere, è un aggettivo verbale, ec lec teai, che viene da ec lego, quindi scelgo, letteralmente sono da scegliere, quindi come se fosse una perifrastica passiva latina, quindi devono essere scelte «sion oickein» per abitare insieme, «tois toiutois andrasin», «assifatti uomini», «tecai» corrisponderebbe a «sia sia», quindi sia per abitare insieme a «assifatti uomini», sia per «sion filattein», cioè per condividere la difesa sottinteso della città. Il verbo è «fiulasso», che ha la stessa radice verbale del precedente «fiulaken», e c'è il preverbio «sion», che indica la compartecipazione, cioè insieme a, quindi, e dunque, tali donne devono essere scelte per, sia per abitare insieme a tali uomini, sia per condividere la difesa della città. «Paper» è una consunzione causale rafforzata dal per, quindi, proprio dal momento che, proprio perché, eisin i kanai sono capaci, sottinteso, di farlo, cioè sono in grado di difendere la città, che ha i «siongheineis», sottinteso eisin, e sono «siongheineis» della stessa natura, quindi con generi autois ad essi, ad essi uomini, «ten fiusin» è un accusativo di relazione, quindi, per quanto riguarda la natura, hanno la stessa natura degli uomini. «Paper» è la risposta, cioè, certamente. «Tadepite deumata» è un aggettivo verbale da apodidomi, un altro aggettivo verbale, come più sopra lo era «eclectei». Sottintendiamo il verbo «essere» e costruiamo una perifrastica passiva, dando ad apodidomi il significato di assegnare. La traduzione sarà dunque «non bisogna assegnare u apodotea», «non bisogna assegnare ta auta ta epite deumata», gli stessi compiti «tais autais» e «fiusesin» alle stesse nature, cioè a nature uguali, la risposta è «ta auta», gli stessi compiti, e sottinteso «epite deumata» la risposta è «certamente» bisogna assegnare gli stessi compiti. Eccomen, ara est a protera periferomenoi, «cai omologumen me para fiusin einai taiston fiulakon ghiunexi musiken tecai ghiumnastiken apodidonai». Ara, dunque, periferomenoi è un participio presente, nominativo maschile plurale, da perifero, ed è nella sua forma mediale. Vuol dire propriamente «mi porto in giro», «vado in giro». Quindi possiamo anche semplicemente tradurre per questo giro «eccomen siamo giunti», ara, come ho detto prima, vuol dire «dunque», per questo giro siamo giunti dunque, «esta protera», letteralmente vuol dire «alle cose precedenti», meglio a ciò che precedentemente abbiamo detto. «cai omologumen» e conveniamo, nel senso di siamo d'accordo sul fatto che «me einai non sia para fiusin contro natura, apodidonai assegnare taise ghiunexi alle donne ton fiulakon dei difensori, musiken kaigiumnastiken», sottintendiamo «tecnen», cioè una tecnica, un'arte, una disciplina, meglio una preparazione musicale e ginnastica. La risposta è «pantapasinmen on», che possiamo tradurre anche con, semplicemente, con «assolutamente sì». «Uc ara adiunata ge, ude e ucais homoia enomo zetumen e paper, catafiusin etizement ton nomon, allata nyun para tauta gignomena para fiusin mallon os eoike gignetai». «Ghe» certamente, «ara dunque», «certamente dunque», «certamente allora», «ucke enomo zetumen» è l'imperfetto prima persona plurale di «nomoseteo», che vuol dire «stabilire per legge», quindi «non stabilivamo per legge», «adiunata» letteralmente vuol dire «cose impossibili», quindi non stabilivamo, possiamo anche tradurre meglio in modo più leggero, «leggi impossibili», «norme impossibili», «ne udee homoia eucais», «ne», alla lettera, «simili eucais a desideri, espressi con preghiere». Quindi, in pratica, Platone qua vuol dire la legislazione che proponevamo, non è allora impossibile né un pio desiderio, però alla lettera è come ho detto precedentemente, quindi «non stabilivamo», «ucke enomo zetumen», «adiunata» leggi impossibili, «udee homoia eucais», «ne», simili a desideri espressi con preghiere. «Epeiper» è una congiunzione causale rafforzata dal «per», «epeiper» quindi lo tradurremo con «proprio perché» e «etizemen», «stabilivamo tonnomon», «la legge cataphusing», «secondo natura». Notiamo che cataphusing è esattamente opposto al «paraphusing» precedentemente detto e anche al «paraphusing» che è presente nell'ultima frase del brano che stiamo proponendo. Concludo la traduzione, «alla», «ma», «tanun», letteralmente vuol dire «le cose di ora», meglio diremmo in italiano «le istituzioni attuali», «gignomena» essendo paratauta contro queste, sottointeso che proponiamo, quindi le istituzioni attuali essendo contrarie a queste che proponiamo, «mallon» piuttosto «gignetai» sono parafusing contro natura, os eoiche, a quanto sembra». Questa che ho proposto è una traduzione letterale, parola per parola e quindi per sua natura non bella da ascoltare in italiano, quindi serve a capire ogni singola parola, ogni singola struttura, ma non è, da un punto di vista della musicalità italiana e della forma italiana, affascinante. Allora affidiamoci ad una traduzione d'autore, certamente più elevata della mia pedestre che ho appena proposto, e rileggo tutto il passo. «Vi è dunque una stessa natura nella donna e nell'uomo che li rende adatti alla difesa della città, salvo che per certi aspetti essa risulta più debole o più forte». Così pare. E dunque andranno scelte donne di tale natura per vivere insieme con tali uomini e per condividere con loro la difesa della città, dal momento che sono in grado di farlo, e a essi congeneri per natura. Certo. E non bisogna assegnare gli stessi compiti a nature uguali gli stessi. Per questo giro siamo dunque tornati a ciò che dicevamo in precedenza, e conveniamo che non è innaturale impartire alle donne dei difensori una preparazione musicale e ginnastica. Certamente. La legislazione che proponevamo non è allora impossibile né un più desiderio, proprio perché la legge era stabilita secondo natura. Sono piuttosto le istituzioni attuali, opposte a quelle che proponiamo, a sembrare costituite contro natura. Dopo aver tradotto ridò la parola al professor Rossi perché suggelli con il suo commento questo importante e direi rivoluzionario passo platonico. Prego, professor Rossi. Non è innaturale impartire alle donne dei difensori una preparazione musicale e ginnastica. Così scrive Platone nel quinto libro della sua Repubblica. Voglio ricordare che l'elaborazione di una callipolis, cioè di una città bella e giusta, prevede la costituzione di tre classi di cittadini, i lavoratori, i guerrieri e i governanti. Per i lavoratori non era ammessa alcuna forma di educazione, non c'è bisogno di educare coloro che hanno il compito di produrre beni e distribuirli. L'educazione invece va impartita ai guerrieri, i guardiani, i difensori della polis e soprattutto ai governanti. Per quello che riguarda i guardiani, la forma di paideia prevista è formata, come ho appena letto, nelle righe di Platone dalla ginnastica e dalla musica, intendendo per musica non solo quello che noi intendiamo comunemente con questo termine, ma le arti e la letteratura, anzi soprattutto le arti e la letteratura. Invece per quello che riguarda i governanti è previsto l'ampio settore delle discipline matematiche e poi la dialettica, cioè la filosofia. Ora, come ci dice qua Platone, anche per le donne dei guardiani è prevista un'educazione specifica. Ora, questa affermazione di Platone è assolutamente rivoluzionaria rispetto alla Grecia dell'epoca. Come scrive uno specialista, uno studioso di queste problematiche, nell'Atene di Pericle la donna libera non differiva dagli schiavi per quanto riguarda i diritti politici e giuridici. Ora, certo poi lo stesso studioso aggiunge che all'interno delle mura domestiche la donna aveva un ruolo importante, però al di fuori non godeva di alcun diritto, era priva di diritti. Stiamo parlando dell'Atene di Pericle, dell'Atene democratica e per quello che riguarda Sparta, beh, lo studioso dice a Sparta la legislazione e il costume era molto meno rigido rispetto ad Atene. Curiosamente, paradossalmente, perché certo Sparta non era la polis democratica come quella che invece caratterizzava la vita di Atene. Ora, quindi per le donne a Sparta era prevista una educazione soprattutto per quello che riguarda l'aspetto fisico. Scrive quello studioso la preoccupazione eugenetica spingeva gli spartani a incoraggiare l'educazione fisica delle ragazze al pari di quella dei ragazzi. E questo era qualcosa che scandalizzava gli Atenesi. Euripide per esempio scrive vanno coi giovanotti fuori casa le cosce nude e i mantelli al vento. Ecco, Euripide si scandalizza perché nella sua polis le vergini conducono una vita molto diversa, confinate nel ginecente. Però anche a Sparta non è prevista alcuna educazione che noi oggi chiamiamo intellettuale per quello che riguarda le donne. Dunque Platone nel quinto libro della Repubblica scrive delle cose, assume un cambiamento assolutamente rivoluzionario. E anzi dice non è innaturale impartire alle donne, dei difensori, una preparazione musicale e ginnastica. E aggiunge sono piuttosto le istituzioni attuali, opposte a quelle che proponiamo, a sembrare costituite contro natura. Dunque l'antidemocratico Platone non è solo più democratico di Sparta ma anche della democratica Atene. Ringrazio il professor Rossi per il suo illuminante contributo e ringrazio tutti voi per l'attenzione prestata. Vi do appuntamento al prossimo video.